Simone, si torna di nuovo in campo per la prima che bolle stagionale dopo la promozione, le tue impressioni? No dai, è bello ritornare a giocare, è stato bello ritrovarsi dopo fin troppo tempo di vacanza e rimettersi a lavorare per fare qualche cosa di buono anche quest'anno. Oggi si chiude la prima settimana di lavoro, un bilancio? Il bilancio è buono, le condizioni fisiche di partenza sono buone, quindi si può lavorare bene, abbiamo cominciato, c'è tanto da fare e abbiamo voglia di farlo.